Tiene, è estate, fa caldo ed è un momento difficile per molti anziani. L'ultimo caso ha colpito una 73enne che vive sola in via Bixio. I vicini di casa, preoccupati dal fatto di non sentire i rumori, hanno telefonato ai parenti, chiedendo notizie. Appurato che la signora avrebbe dovuto trovarsi nel suo appartamento, è stata fatta una segnalazione alla polizia locale, che è intervenuta tempestivamente sul posto. Gli agenti, visto che in casa le luci erano accese, sono entrati dalla finestra aperta del bagno e hanno trovato la donna per terra in salotto, colpita da un malore e con ferite dovute alla caduta. Immediatamente sono stati allertati i medici del 118 che hanno portato la signora all'ospedale di Sant'Orso, dove è ricoverata in prognosi riservata per un infarto.